Non dimenticare che oggi il sangue di Gesù, versato dai Suoi molti martiri cristiani in varie parti del mondo, ci interpella e ci spinge all'unità. Per i persecutori, noi non siamo divissi, non siamo luterani, ortodossi, evangelici, cattolici. No, siamo uno. Per i persecutori siamo cristiani, non interessa oltre. Questo è l'ecumenismo del sangue che oggi si vive. Così Papa Francesco nel discorso ai membri dell'Associazione Carismatica Mondiale Catholic Fraternity, ricevuti in occasione della loro sedicesima conferenza internazionale. Il Pontefice ha ribadito che l'uniformità non è cattolica, non è cristiana. Bisogna invece cercare l'unità nella diversità. L'unità non è uniformità, non è fare obbligatoriamente tutto insieme, né pensare allo stesso modo, neppure perdere l'identità. E condividere la stessa casa è testimonianza di unità. Così Papa Francesco ha ringraziato Catholic Fraternity e i movimenti carismatici cattolici, riuniti nell'ICCRS, per aver scelto di condividere lo stesso ufficio nel Palazzo San Callisto in Vaticano. Un segno che il Pontefice aveva chiesto in occasione del grande incontro allo Stadio Olimpico, con il rinnovamento carismatico. La Chiesa ha concluso, ha bisogno dello Spirito Santo. Ogni cristiano nella sua vita ha bisogno di aprire il suo cuore all'azione santificante dello Spirito Santo. E ha esortato il mondo carismatico a condividere questa esperienza e ad essere testimoni di questo.